Queste sono le crocchette di zucca di Halloween del Lidl Sembrano crude ma le ho cotte 3 minuti in forno a microonde Le sono rotte tutte, bruciano Le ho appena tirate fuori dal forno Forse se le mettevo nel forno statico era meglio Adesso appena si raffreddono le assaggiamo insieme Crocchette di zucca Crocchette di zucca del Lidl a 1,99€ Ma magari le proverò a fare in casa il prossimo anno L'aspetto non è invitante Il gusto è buono Qua ci ho provato a non farmi vedere A mettere il cellulare in un altro modo Che vi diate solo il piatto Io le sento speziate Non so Non so cosa vedete Però spero che vediate Non ho letto sinceramente prima di cuocere nel forno a microonde Se andava bene il forno a microonde Ho fame Le ho cotte velocemente Su gelate Non le compro più Sicuramente Non mi fanno impazzire Non so ma Non so ma Ok Non so ma eating sound, novità, se riesco a stare sette meglio tutto attaccato e incollato non mi piacciono, comunque video breve oggi domanda, voi guardate i miei video ASMR per cosa? per dormire, per rilassarvi, per intrattenervi, per svagarvi, per divertirvi, per cosa? guardate i miei video, commentate ok? rispondetemi io miro la fritella non ho finito tutta la confezione ancora ce ne sono però solo 5 o 6 lo mangiate oggi ma mi lasciano un retro gusto in bocca piccantissimo se a voi piace il piccante provate era l'ultima confezione martedì scorso vado bene perché ho la cola in fiamme a presto ragazzi al prossimo video